Come raggiungere obiettivi impossibili? Come realizzare quei progetti che desideri fare da morire, da impazzire, ma poi quando ti siedi per poterli fare sembrano così grossi che ti arrendi prima di iniziare a farli? Se tu prendi un ciocco da 4 kg di legna, un pezzo unico, lo metti nel camino, vai e prendi, accendi un fiammifero e ce lo metti vicino, si accende quel ciocco? No, non c'è abbastanza forza per farlo prendere, bisogna prendere un po' di legnettini, magari anche un po' di carta, qualcosa per creare un piccolo fochetto, metterci sopra qualche pezzetto di legno un po' più grande e ancora un po' più grosso, poi legnetti medi, legni ancora più grossetti e quando cominciano ad andare belli, che fanno un bel fuoco caldo, vivace, allora tu ci sbatti sopra il ciocco da 4 kg e quello parte come una jaguar, tranquillo. Quindi se io voglio fare un progetto che è equivalente a un ciocco di legna da 4 kg, cosa posso fare? Io ho scoperto due cose, la prima cosa che posso fare è quella di farmi una lista di tutti i passetti che sono necessari per arrivare a poter mettere il cioccone di legno da 4 kg là dentro, cioè mi elenco tutti i passetti necessari per arrivare allo step poi finale, perché lo step finale è il risultato di aver fatto tutti quegli altri, quindi li vado a individuare e mi spezzo. L'idea che prima era far bruciare il ciocco di legno da 4 kg in 10 mini step intermedi per arrivarci. Due, affronto il percorso prendendo ognuno di questi stepini alla volta, perché se mi dici andare a prendere adesso i legnetti e metterli nel cammino non è un problema, se poi domani devo andare a prendere i legnetti intermedi e mettere un po' di fogliette secche, non è un problema, se poi il giorno dopo devo accendere questa robetta, soffiarci un po' sopra e vedere che prenda bene fuoco, non è un problema, ma se mi dici di nuovo, ehi prendimi quel ciocco di legno da 4 kg, buttalo dentro e accendilo con un fiammifero, io non ci riesco, mi arrendo, non funziona proprio fisicamente, quindi allo stesso modo se voglio realizzare un progetto, le cose che ho scoperto sono di spezzarlo in tanti piccoli passi e poi di fare ogni piccolo passetto alla volta.